Ciao Ora vengo Ciao Ciao Buongiorno Ciao 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 Non lo so, non lo so, non lo so Stava male Direttore Si Domani E' più facile fare l'acciaiere che vincere al Luna Park E' bisogno che lavori E' bisogno che lavori E' sicuramente Ma ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.